Andiamo adesso a Deruta, dove è in fase di allestimento la mostra curata da Andrea Baffoni, Deruta 12 maestri, promossa dal Comune di Deruta e dalla Casa degli Artisti di Perugia. La mostra è curata da Andrea Baffoni con la collaborazione di luoghi di memorie che ha fissato in forma digitale il ricordo personale dell'eredità artistica dei 12 maestri. La mostra verrà inaugurata il domenica 27 marzo, si sviluppa su tre livelli e il centro espositivo Fornace Grazia che si trova all'ingresso del centro storico di Deruta. Si tratta di 12 artisti, alcuni nei quali nati e vissuti a Deruta, altri che si sono stabiliti per la loro attività fuori, furono artigiani, ceramisti, insegnanti, pittori, scultori. Una mostra che spazia dalla ceramica tradizionale, dalla sperimentazione tra passato e futuro a dimostrazione di come la vocazione artigianale derutese abbia portato nel corso degli anni alla nascita di tanti artisti capaci di andare oltre il loro tempo tra questi Calzolari, lo stesso Angelo Ficola, Antonio Folichetti, Franco Lamincia, Antonio Margaritelli e molti molti altri grandi artisti di Deruta.